Quello che state vedendo è indubbiamente uno degli scorci più impressionanti del nostro museo, quello che accoglie il visitatore che ha appena superato il nostro portone di ingresso. Si rimane così folgorati e stupiti da questo visuale che non si guardano i cartelli e la segnaletica che abbiamo inserito per indicare che il percorso comincia pochi passi qui a sinistra ma si viene subito diciamo accolti e invitati ad affacciarsi verso il Ninfeo che è stato protagonista di altri nostri video. Anzi si guarda oltre il loggiato del Ninfeo fino alla statua di Igea che troneggia alla fine del terzo cortile dei tre di cui si compone l'architettura originaria rinascimentale di Villa Giulia. Da questa posizione voi potete guardarvi intorno a 360 gradi e vedere immediatamente sopra di noi questa specie di grande arco trionfale che per la sua maestà segna l'ingresso in dialogo con l'esterno. Dall'esterno si poteva vedere e guardare oltre per tutto lo spazio che Villa Giulia occupava in questa stretta valle naturale in cui fu inserita per volontà di Papa Giulio III Ciocchi del Monte. Ma il senso architettonico di tutto questo emerge con chiarezza guardando appunto gli affreschi, opera di Pietro Venale da Imola, Prospero Fontana, Taddeo Zuccari. Al Venale da Imola in particolare sono da riferire tutte alla decorazione della volta dell'emiciclo con questi splendidi amorini e questi florileggi con animali, piante che li circondano a rievocare quelle gronde dei pergolati che dovevano caratterizzare il paesaggio ai lati di Villa Giulia. Ma quello che è più significativo in questa visuale sono questi due uomini in nudità eroica, nonostante sia la villa di un Papa della metà del Cinquecento, che stanno aprendo il velo di un grande sipario perché è proprio una sorta di grandissimo teatro che Villa Giulia doveva essere sia dal punto di vista architettonico che concettuale. Lo dimostra molto bene l'emiciclo che intravedete con la sua forma e anche con la sua acustica di cui noi cerchiamo di dare saggio con tutti i concerti che ospitiamo nel nostro grande cortile. Ma ancora di più lo dimostra il teatro d'acqua, il primo e il più importante del Rinascimento, il cosiddetto Ninfeo di Villa Giulia, protagonista di altre puntate anche a 360 gradi. Quindi questi due uomini non stanno facendo altro che aprendo un sipario in quello che doveva avvenire secondo la volontà del Papa in questi ampi spazi aperti perché gli spazi interni di Villa Giulia non sono molti. Le tre sale al piano terra, quelle al piano superiore, il piano nobile dove potenzialmente si viveva, tutta una serie di ambienti interni legati proprio al funzionamento del palazzo. Due grandi scale a chiocciola ai lati consentivano di accedere al piano superiore anche a dorso di un mulo come si conveniva al tempo, ma poi altri piccoli ambienti, dei bagnetti e tutto il resto erano chiaramente legati alle attività della servitù. L'ospitalità era concentrata nella cosiddetta Sala dei Sette Colli e nelle due sale laterali. La sala che noi usiamo per le conferenze come sala denominata Sala della Fortuna dagli affreschi che campeggiano sulla volta era una sala anche questa dedicata ad attività, chiamiamole così, disinvoltamente ricreative. Un luogo dello stupore, dell'intrattenimento, del piacere, ma sappiamo anche un luogo inevitabilmente incompiuto. Cinque anni durò il pontificato di Papa Giulio III e non bastarono per realizzare un'opera che comunque fu realizzata in tempi rapidissimi, su progettazione Vasari diceva propria, con la consulenza di Michelangelo, ma anche la straordinaria apporto del Vignola a cui si attribuisce la facciata e di Ammannati, che sappiamo, ce lo ha scritto lui su un pilastro, cui si attribuisce il Niefeo. Il tutto popolato di statue e di sculture antiche che dopo la morte del Papa e dopo un periodo di vari passaggi di proprietà vennero acquisite al demanio pontificio perché si ritenne illecito il dispendio di denaro pubblico operato dal Papa per realizzare una propria residenza personale e in più una policromia che si vede solo in parte. Un dettaglio che faccio sempre notare ai nostri visitatori quando ho l'opportunità di intrattenerli con visite guidate è che per rendere ancora più efficace l'effetto prospettico, il loggiato che si affaccia sul Ninfeo non era aperto come oggi lo vediamo con tre aperture ma era aperto solo al centro e tamponato ai due latri con dei marmi policromi. Questo proprio per accentuare quella visione prospettica che dall'esterno doveva consentire al visitatore di traguardare fino all'ultimo spazio costruito ogni volta però rimanendo impressionato perché guardando le superfici esterne del palazzo un parallelepipedo in linea con lo stile del tempo non ci si aspetta poi di essere accolti in uno spazio semicircolare né tantomeno ci si aspetta il salto di quota del Ninfeo che ripropone di nuovo uno spazio quadrato che ne accoglie uno teatriforme e una serie quindi di effetti scenici che era completata verso la collina da delle grotte artificiali che creavano un secondo Ninfeo di Villa Giulia e poi alberi uccelliere pergolati perché Villa Giulia era Vigna Giulia e quindi era un luogo dedicato anche alla produzione di vino in particolare ma anche di di altro perché le proprietà del pontefice si estendevano andando ad inglobare parte di Villa Borghese proseguivano fino al fiume Tevere dove aveva il suo porticciolo che raggiungeva lungo via di Villa Giulia attraverso una strada protetta che passava accanto ad un altro casino dove viveva il fratello di Giulio III Baldovino Ciocchi del Monte occupata attualmente da Villa Poniatolski c'era una fontana all'incrocio con la via Flaminia oggi inglobata all'interno del palazzo del palazzo Borromeo opera anch'essa di Ammannati che veicolava l'acqua vergine prima che concludesse il suo percorso a Fontana di Trevi e infine si arrivava al porticciolo dove il Papa comodamente poteva spostarsi in barca tra il Vaticano e la sua residenza di piacere privato. State vedendo la primavera ormai finalmente esplosa il nostro meraviglioso Glicine sta per riempirci del suo profumo e del suo colore vedete intravedete in lontananza la statua del fondatore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Felice Barnabè che contempla e osserva tutto quello che avviene in un luogo che fu lui a trasformare in un museo disponibile quindi e accessibile per tutti. nel 1889 131 anni ci separano dalla trasformazione di questo luogo in museo dopo che aveva avuto mille usi e mille funzioni da ultimo quella di un ospedale veterinario completamente trasformato nelle sue funzioni e anche purtroppo con spazi molto molto fatiscenti come si può vedere anche in alcune foto storiche risalenti alla fine dell'Ottocento che abbiamo condiviso sui nostri social. Non vedete la ricostruzione del Tempio di Alatri una delle meraviglie della didattica museale Antelitteram voluta da Barnabè e non vedete in questo momento l'ingresso del museo a pochi passi da qui. Le due ali che oggi completano il percorso furono aggiunte nel corso del Novecento proprio per dare maggiore ospitalità alla grandissima quantità di reperti provenienti non solo dall'Etruria ma anche dal Lazio che vennero ad essere ospitate in questo luogo meraviglioso. Le storie che potrei raccontarvi sono potenzialmente infinite. Vi lascio contemplare ancora per qualche secondo questi meravigliosi affreschi e questi splendidi spazi architettonici sperando di potervi rivedere presto qui a Villa Giulia ad usufruire dal vivo e sul posto delle nostre mille attività culturali e non solo. Vi abbraccio e vi saluto, vi do appuntamento sul nostro canale Etrus Channel e sui nostri social per poter partecipare virtualmente ma in realtà a tutto quello che cerchiamo quotidianamente di proporvi.